Garibaldina Aldeno Dopo la bella vittoria di scorsa settimana alla compagine di casa, ospite l'Aldeno, reduce da una sconfitta e bisognosa di punti. La Garibaldina confermerà il pronostico o ci attendono sorprese? Leno Valpeio I locali hanno ripreso la propria marcia nello scorso match e oggi ospitano il Valpeio, penultimo ma con livi segnali di crescita. Riusciranno gli ospiti nel colpo grosso o la Leno vincerà anche oggi? Marco Azzurra La capolista ospita la terza in classifica. Entrame le squadre stanno dando spettacolo e sono tra i migliori attacchi. La forte difesa del Marco riuscirà ad arzionare gli azzurri in forma strepitosa? Sacco San Giorgio Cristo Re Scontro dedicato nella metà destra con i padroni di casa che possono definitivamente tirarsi fuori dalla zona calda e la Cristo Re che cerca di riscattare la precedente sconfitta. Sporbaggiore Dolasiana I giallorossi hanno vinto nella scorsa partita, ma questo weekend ospitano una squadra che ha fatto 4 punti in 2 partite e cerca la clamorosa rimonta. Match apertissimo, sarà una partita caldissima. TNT Montepeller-Montebaldo Entrame le squadre cercano il riscatto dopo la sconfitta nella scorsa giornata. Chi ne uscirà vincente? I locali a caccia della salvezza o da Montebaldo in lotta playoff? Volano Trambileno Le due squadre distano un solo punto e navigano nella metà della classifica. Mai accontentarsi, in questa partita bisogna vincere per aspirare ancora le posizioni nobili. Sì, 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 sì. 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 Grazie a tutti.